Ragazzi, come vedete sono in partenza, perché non si è a casa a montare le puntate vi starete chiedendo e invece sto facendo qualcosa di molto importante per voi, perché sono andando alla ricerca delle origini della frullanza Destinazione Caraibi Esiste un paese dove insegnano sin da bambini che frullato è meglio Questo paese è la Repubblica Dominicana Qui è uso comune creare frullati incredibili perché sanno che il cibo frullato ha un valore maggiore Qui li chiamano batidos, batidos di qualsiasi cosa La bevanda preferita di Steven J. Poplaski era un frullato di latte malto e a dir la verità lui inventò il frullatore per fare questo famoso frullato Qui il frullato di solito viene fatto con latte frutta, frutta tropicale Com'è il guanabana Andremo a cercare un guanabana di dimensioni soddisfacenti direi Per adesso mi saluto e mi godo la spiaggia La guanabana mas grande Cocco Ciao ragazzi siamo qui per fare un tipico frullato locale Abbiamo tutti gli ingredienti Una noce di cocco da cui prendere il latte di cocco La famosa guanabana Il frutto dal sogno di tutti i frullomani E poi abbiamo l'energy drink locale Cyclone Le mie due assistenti Jessica e Natascha Ci aiuteranno a preparare il frullato La prima cosa da fare è tagliare e sbucciare la guanabana Non lasciatevi inorridire dalla sua consistenza viscida e filamentosa Staccatene dei pezzi di media grandezza Ed assicuratevi di togliere tutti i semi Sin semiglia Lasciate cadere i pezzi nel frullatore Che per l'occasione chiamerete liquadora E dimostrate una certa spocchia Trovate una maniera di aprire il cocco Senza perdere l'uso dei vostri arti E sì questo è un vero cocco Come si trovano sugli alberi E non assomiglia per niente a quello che comprate all'Esse Lunga Ora riempite con il latte di cocco Metà della liquadora Che ponemos ahora? Un poco di ciclone Il ciclone è l'energy drink leader in Repubblica Dominicana Non è buono come la Monster o la Red Bull Non ha un logo figo Ed in quanto a potere energetico non riesce neanche a competere Ma costa poco e allora va bene così E ora vamos a liquidar Andiamo a furare Andiamo a florare Andiamo a furare Andiamo a furare Ok La frullata è meglio Disculpe non se avrà italiano E assaggiamo questo frullato dominicano Anche in Repubblica Dominicana frullato è meglio E assaggiamo questo frullato è meglio Il trattato è più E assaggiamo questo frullato è più Eccle marzo è meglio E assaggiamo questo frullato è meglio E assaggiamare è più Sì